Eccoci, eccoci qui come state, ben ritrovati, un saluto a tutti, grazie per la sempre puntuale attenzione nei confronti del nostro canale YouTube, vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto con civiltà e rispetto, di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi con un mercato che finalmente si sta scaldando e anche parecchio, non soltanto per le temperature che registriamo, mi raccomando iscrivetevi anche il mio canale personale che trovate qui sotto nel link in descrizione, fatelo adesso. Adesso mi raccomando ci tengo tanto e poi sull'home page di Milano c'è il video podcast di Marco Van Basten da guardare assolutamente. Allora ragazzi un po' di novità, intanto Pellegrino ve lo ricordate? Operazione che con anche la mancata uscita di ballotture pre chiusura del mercato in entrata aveva costato lo scorso anno il mancato arrivo di Calafiori per scelta in questo caso su Pellegrino della società, Monca data clamorosamente fallita, ebbene si sta allenando già con l'indipendiente in attesa dell'annuncio perché l'indipendiente ha dei debiti, con certi giocatori quindi finché non li risolve non può annunciare Pellegrino che però andrà in prestito con questa destinazione appunto l'indipendiente. Poi ragazzi tante novità, ieri è stato curiosamente annunciato il profilo social del Milan Futuro, l'Under 23, e oggi il giorno dopo casualmente su quel profilo l'annuncio della firma del figlio di Zlatan Ibraimovic, che è stato tra l'altro uno dei motivi di ruggini, frizioni, mica male tra Zlatan Ibraimovic e Abate, re o secondo il dirigente di non aver valorizzato il figlio, cosa che invece vedremo con ogni probabilità valorizzare da Bonera, anche se mi dicono che non sia esattamente della stoffa del papà. Però oggi, ieri annuncio il profilo, oggi subito prima cosa, vabbè vedremo un po' quale sarà la gestione del figlio di Zlatan Ibraimovic. Poi ragazzi, proseguendo nel video, allora, intanto una curiosità su Alvaro Morata, perché come sapete lui alla fine viene al Milan, Furlani dice per Ibraimovic, in realtà perché il progetto è convincente, da un punto di vista economico, lui andrà a prendere 4 anni di contratto, è quando ha quasi 32 anni, quindi arriverà a quasi 36 anni, barra 37. Ecco, la condizione di rinnovo automatico per la stagione del quinto anno dipende dal rendimento dell'ultima stagione. Se nell'ultima stagione lui fa 20, G barra A, cioè gol e assist in totale 20, scatta rinnovo automatico per un altro anno, quindi quando lui arriverà ad avere quasi 37 anni. Però mi sembra una clausola tutto sommato corretta, perché se fai nell'ultima stagione 20 tra gol e assist, io un altro anno me lo tengo. Come Giro lo scorso anno, se farà quella stagione lì io me lo sarei tenuto, ovvero che Giro aveva anche un anno in più di quello che avrebbe Morata, però ecco questa è la condizione di conferma. Poi ragazzi, Simic, sempre più lontano dal Milan, prosegue la trattativa con l'Underlecht, dell'uscita di questo giocatore che vedo in tantissimi non digerite, qualcuno sì, per qualcuno qualsiasi cosa accade il Milan fa bene, per qualcuno qualsiasi cosa accade il Milan fa male, per qualcuno invece c'è un giudizio più inerente ai vari casi. Personalmente do colpe al Milan, come do colpe anche al giocatore e al suo entourage, però mi piacerebbe tanto confermarlo, sempre più vicino all'Underlecht, che offre tre. Si sta discutendo molto in questo momento della percentuale sulla futura rivendita, con il Milan che quindi incasserà qualcosa adesso e un domani di fronte alla rivendita da parte dell'Underlecht, del giocatore serbo, molto giovane, difensore della nostra primavera, che probabilmente non giocherà mai nell'Under-23 ed è un gran peccato. A proposito di centrocampo poi, perché ci spostiamo dalla difesa al centrocampo, poi andiamo anche nelle altre parti, è prevista nelle prossime ore, quindi non so se stasera, domani o magari nel weekend o a inizio settimana, una nuova offerta del Milan per Yusuf Fofanà, che in un modo o nell'altro, salvo clamorosi colpi di scena, vestirà i colori rosso-neri. Il Milan deve alzare l'offerta, il Monaco lo valuta a 25, che obiettivamente è un po' troppo, vista la scadenza del giocatore con il Monaco, però ecco, bisogna alzare un po' l'offerta, il Milan alzerà la propria offerta, sperando che questa possa essere accettata nelle prossime ore. E' spuntato poi un giocatore alternativo, Yusuf Fofanà, che è Richard Rios, 24 anni, colombiano, alto 1,85, giocato nel Palmeiras, scadenza 2026. Sette presenze e un gol nella Serie A 2024, un giocatore che piace anche la Roma, la Fiorentina, che con la Colombia ha 13 presenze e due reti, centrocampista molto interessante, che pensate a una clausola recissora da 60 milioni di euro. Sinceramente io credo che questa voce però sia stata messa in giro ad arte, o dal suo entourage, o magari dal Milan per provare a mettere pressione al Monaco e abbassare questa cifra. Ecco, è molto interessante, però arriva dall'altra parte del mondo. Non credo che il Milan voglia affidare le chiavi del centrocampo a un giocatore pur bravo, che però deve venire qui, adattarsi a una nuova cultura, a un nuovo paese molto distante dal suo e a un nuovo calcio molto diverso. Sarebbe rischioso. Trasfernatolo valuta a 5 milioni, mi sembra sinceramente un po' poco, la clausola è 60. Se poi te li prendi tutti e due, hai il titolare, il cotitolare o l'alternativa da valorizzare in casa, beh, ben venga. Vediamo, ripeto, nuova offerta che sta per essere presentata al Monaco da parte del Milan, in un reparto, quello di centrocampo, dove cambieranno tante cose. Restiamo a centrocampo, dove serve sfoltire un po' per fare altre operazioni in entrata, perché nelle idee del Milan a centrocampo ci sono due operazioni. Uno è il mediano, centrocampista da piazzare davanti alla difesa con attitudini difensive, cioè Fofanà. Io credo che il Milan in un modo o nell'altro Fofanà se lo porterà a casa. L'altro è quello invece un po' più qualitativo, che possiamo inquadrare nella mezzala o nel trequartista, secondo un po' del modulo, che nell'idea del Milan invece ha piedi, a gamba, a gol soprattutto. Ebbene, confermiamo che il Milan in questo momento sta, immaginiamo un pentolino, sta scaldando la pista, la Zarsamardic. Nuove conferme anche oggi su nuovi contatti con il suo entourage. È rappresentato dall'Ios Sports, ma adesso parliamo di lui. Giocatore che ha 22 anni, a scadenza con l'Udinese 2026, e in Serie A ha fatto molto bene. 11 presenze in totale con la Serbia, prima faceva le giovanili della Germania. In Serie A 93 partite, 13 gole, 8 assist. Discutevamo oggi con Martinelli della Giustina su questo giocatore, io stravedo per lui, Martinelli dice che è uno che non è bravo, che è bravo soltanto con la palla e non senza, della Giustina ritiene che non verrà perché ci sono le commissioni. Ebbene, il Milan prova a fare sul serio per Samardic, il cui carattere particolare è un po' ruvido piazza Zlatan Ibrahimovic, che vuole ai giocatori anche un po' figli di buona donna, intendiamoci, che fuori dal campo possono essere fastidiosi, in campo invece sono caratteristiche che possono aiutare. È un giocatore che ha 22 anni appena e può esplodere, diventare per me un crack, lui è un potenziale top player, anche se non ha proprio gusto, no? Detto questo, è previsto un incontro del Milan con il papà di Samardic, che è colui che lo scorso anno fece saltare all'ultimo con l'operazione con l'Inter. Io quando stava per andare all'Inter dicevo ragazzi rosico per me questo è davvero forte, non è possibile, fanno un colpo, noi non ci proviamo nemmeno. Salta, ricordo anche dove ero, come quando ci sono i grandi eventi e ne sono molto contento, no? Perché Samard dice vederlo lì e mi avrebbe dato molto fastidio. Lui chiaramente non può essere contento di essere rimasto udinese e chiaramente questa volta andrà via. piace non solo al Milan, piace anche fuori, piace al Fenerbahce, alla Lazio. In questo momento il Milan sta provando ad approfondire la vicenda e incontrerà il papà di Samardic che è colui che di fatto guida il futuro del figlio che lo scorso anno poi stava per essere spostato dalla Pimenta ma alla fine il padre dice no, facciamo noi, lei non c'entra nulla, eccetera, eccetera. Un grande caos. c'è chi dice restiamo fuori da certe situazioni complicate, siamo lontani. Io il rischio di magari ingarbugliarci tra qualche anno in qualche situazione particolare me lo corro più che volentieri per portarmi a casa a Samardic però vi dicevo bisogna sfoltire. Il Milan ha messo ufficialmente in vendita ufficiosamente perché non ci hanno comunicato due giocatori. Il primo è Yasinadli che insomma nel Milan può fare la riserva ma io ho cambiato molto giudizio su di lui per il Milan in vendita chiaro che non può incassare chissà cosa però libererebbe un altro spazio e porterebbe soldi da investire poi su Samardic che è laudinese valuta 25 per arrivare a 20. Milan pensa a meno di 20. L'altro giocatore che può essere invece ceduto un po' più malincuore per la questione liste ma che per me è un giocatore anche qui probabilmente non da Milan è Pobega. Pobega è utile per la questione liste però il Milan lo fa partire e quindi tra di lì e Pobega l'idea di ricavare dei soldini di liberare spazio per mettere dentro appunto Fofanà e il buon Samardic oppure insomma avevamo parlato anche di Rabiot un giocatore qualitativo bisogna incassare bisogna anche saper vendere e speriamo di riuscire a incassare dei soldi ripeto io non mi strappo i capelli né per Adeline né per Pobega e credo che l'ultima stagione le ultime stagioni abbiano dimostrato che sono giocatori magari da Fiorentina piuttosto che che ne so Bologna che comunque è andato in Champions o altri livelli quindi due in vendita per provare ad arrivare oltre che a Fofanà ha anche la mezzala qualitativa oltre quartista qualitativo anche perché Loftus in quella posizione lì Fonseca non è che lo veda benissimo tra le linee poi parleremo anche di Loftus proseguendo poi nel video con tante notizie ci spostiamo là davanti stiamo parlando costantemente con la ROF l'agenzia che corre gli interessi Temi Ebram e anche di Fulcruc la bestia ebbene attenzione perché in questo momento il nome più caldo che ha preso il sorpasso e magari arriverà a traguardo in questa posizione è quello di Fulcruc con l'idea quindi del Milan di fare una coppia d'attacco di 63 anni in due ma dà sicuro garanzia di affidabilità per l'immediato in questo momento più Fulcruc di Ebram col Fulcruc che ha dato la piena apertura totale alla C.Milan che adesso deve parlare con il Borussia Dortmund per il quale non è incedibile ma che lo valuta 15 vediamo abbiamo già speso 15 per quasi 32 anni commemorata vediamo se davvero stravolgiamo come dicevamo nel video precedente le linee guida di Redbird e andiamo a investire su un altro giocatore di esperienza sapendo che i 15 che investi per il Fulcruc sono soldi a perdere nel senso che poi non torneranno più non è che lo rivendi tra un anno o due ha un anno o meno di Morata e gioca uno gioca l'altro dovresti essere abbastanza tranquillo cosa che magari negli ultimi anni non sempre accadeva quindi sorpasso importante di Fulcruc che tra l'altro nel video precedente di questa mattina dicevamo ha la stragrande di maggioranza preferenze di voi popolo di Milanello nel sondaggio che abbiamo aperto ieri vediamo che cosa succede Fulcruc più Samardic a me piacerebbero tanto più ovviamente Fofana sperando che funzioni tutto bene però devi cedere anche qualche giocatore un'altra cosa che vi volevo dire dovremo chiarire poi alcuni concetti su Loftus ma non solo ecco da un punto di vista tattico da quello che ci arriva da Milanello appunto per il resto ci sono sicuramente anche altre uscite Salemakers Daniel Maldini eccetera eccetera l'importante è che se vendi perché vuoi vendere vendi bene perché è una qualità che dobbiamo affinare e anche non poco non noi ma i nostri dirigenti temi che ne pensate di tutto commentate numerosi lasciate un bel like iscrivetevi qui il video adesso lo avete sovraimpressione di Van Basten per chi non lo avesse visto iscrivetevi anche al mio canale personale che trovate qui sotto nel link in descrizione un abbraccio più tardi ci vedremo sul mio canale personale quindi mi raccomando iscrivetevi numerosissimi Samarjic sì Samarjic forse o Samarjic no per me è un sì enorme speriamo tanto che possa arrivare anche se qualcuno ci crede poco o anche se qualcuno non piace questo profilo ora al video ciao